Gli hanno razziato la casa per 11 volte, non contando la volta in cui gli hanno rubato l'autoradio dalla macchina parcheggiata fuori sfondando il finestrino. Non ne possono più Walter, Sponchiado e la moglie che l'altro ieri hanno nuovamente trovato la casa sottosopra. Stavamo guardando la televisione, erano circa le 18.30 e a un certo punto abbiamo sentito il cane che abbaiava e mi è sembrato di aver dovuto alla porta aperta. Siamo scesi e erano entrati, abbiamo fatto in tempo ad accorgersi che erano entrati in taverna, avevano aperto tutti i cassettini e poi se ne sono andati di fretta. Stavolta non hanno fatto in tempo a prendere nulla, ma negli ultimi 15 anni i ladri li hanno portato via di tutto. Una volta addirittura si sono portati la televisione. Ed è con la stanchezza di chi lancia l'ennesimo SOS che Walter e sua moglie rimarcano qui, ormai non c'è più nulla da rubare. Si spera perlomeno che ci sia un controllo così perché se nemmeno di giorno uno può stare tranquillo in casa, è più il danno e il malessere che uno prova quando rientra in casa. Non c'è più niente da rubare. Le dinamiche in cui i banditi sono riusciti ad entrare in questi 15 anni sono state le più disparate. Hanno sfondato la porta d'ingresso, hanno sfondato la porta del bagno sopra, sono entrati dal soggiorno al piano superiore, salendo dalla grondaia. Per cui non è che arrivano e entrano perché è tutto aperto, di solito è chiuso. L'altro ieri si sono prima introdotti nel cortile dei vicini di casa, i palatron, anche loro visitati dai ladri sei volte negli ultimi quattro anni e hanno messo fuori uso l'illuminazione esterna. In fondo là, cosa era, storto, ho tornato i feri e io saltai e sono venuto qua. In casa non sono entrati, in casa non sono entrati.